Io ho due cose mitiche Che cosa? Il rampino e lo scuolo Ho lasciato il rampino Vieni, mi puoi dare il rampino? Ti prego, l'ho lasciato Vieni, te lo giuro, ho lasciato il rampino Dov'è? È lì allo squalo, però è nella tempesta Lo squalo è stato risucchiato Ti puoi dare il tuo rampino? No Ho trovato Ti hai tutte le tue armi mitiche Io non ho zero Ho capito, però l'ho trovato Vabbè, uno per uno Facciamo Perché allora io non conto niente Allora io ti do un pompa Il sac blu Ti do un sac blu Ti do un sac blu e te mi dà Il rampino mitico Ok Fermiamoci Tieni Guarda dammi il rampino Ma te c'hai un pompa del nonno? No Guarda dammi colpi pompa Ok Se no mi riprendi il rampino Bravo Adesso riapriamo Ah tu vai per la tua strada Io vado per la mia Ecco, vedi ho trovato una RB Io già ce l'ho Io c'ho lo scar Vabbè Dobbiamo essere Vigilanti Qui c'è il camion Allora di un urbino Arrivo Arrivo Non lo fare eh No tanto sono fulle Oh mi sparano Io 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 Non faccio più parti Io dei punti Ma non si può pingare Nooo Nooo Si può pingare Ah Hey Non ho lavato Non ho lavato Non ho lavato Non ho lavato Brù Io devo andare via La jump No Che scelta Chi ditto Mi sta fattendo ma dov'è il tizio ma poi ci fatto 105 terminata un capo c'è un altro o io ancora mi cura mi prego dobbiamo essere vigilanti che vuol dire? boh colpi R c'è lì però non ho pochi te ne posso dare come 33 te ne posso dare 33 io mi prego il tac va bene va bene va bene va bene 33 però mi servono colpi del pompa tieni non sono sei grazie e tu dammi colpi R e non puoi se non me te ne do 26 e non puoi e dammi colpi mitra ah c'era il nemico eccoli qua grazie aveva molti ah no ma c'era il camion dello slurk si ah si ah si non me ne sono affatto perché c'era il nemico che mi aveva laserato adesso possiamo riprendere la vita allo scudo io vi vedo eh adesso c'è una trappola chi è che mica una picconata ed è morto il camion quanto è bello il rampino eh si ma chi te l'ha dato è te però guarda io ti ho dato lo scarro e un guatto di colpi vabbè stavolta te l'ho conci sono là è bellissimo il rampino è la mia alba preferita oh invito Titto invito Titto lo vuoi lo vuoi lo vuoi lo vuoi lo vuoi lo invito lo invito oh eccolo ciao Titto e tu stai ancora registrando si ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ma di nuovo? eh no sto rifacendo la video però è lo stesso col video ma perché hai fatto ciao a tutti ragazzi? come diceva il sabbatatore raga ciao Tito sto registrando sto registrando abbassi l'audio abbassi puoi abbassare e abbanno ti abbassi l'audio ma perché è Tito che deve abbassare l'audio vero? sì sì adesso va bene no perché dai dai si abbassi l'audio è Tito che ha l'audio alto è Tito che ce l'ha alto perché se io gli disattivo l'audio non si sente più la luce ultra o ultra potente si abbassi l'audio eh capito però che sto devi abbassare l'audio che sto devi abbassare l'audio oh così va bene gli disattivo l'audio questo qui è un bel vigilante che vuole combattere ah vigilante vigilante bravo tu hai bravo con lo scarro voglio fare vittoria quindi tu sei frustrano sì non sei andato bene ecri sì stai ancora registrando che c'è? ma Tito mi stai registrando sì ok ok Tito non c'è è meglio se gli disattivo l'audio è meglio se gli disattivo l'audio allora non la usare perché se no i nemici si spavano quindi è meglio camperare dietro campera 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 chi è? chi è? è meglio che gli ha rilanciati è meglio che gli ha rilanciati hai quattro colpi mitraietta? no perché ho letto quello che hai detto non ho capito ecco di qua colpito grazie ma perché quattro colpi mitraietta? perché cosa è arrivato al cento? no ma cos'è tra ma sopra oh mamma mia non male che me ne scacco sembra una sorta di goku super stagliando se facciamo vittoria mentre tu registri oh oh e sai che sta registrando andrà il suo youtube? eh? quindi ma chi sta ancora registrando? ok che cosa sta ancora non ma 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 ok vediamo in safe vediamo in safe no ci pushano eh no perché eh ho sentito un data plano eccolo lo senti? io si dov'è? è si ma non andiamo in safe tanto abbiamo Sì, abbiamo fatto il tempo di romperatela. Dai, credo. Credo per andarci. No, tiè. Abbiamo altri 30 minuti per... Che la sei per lenta? 30 secondi. Anche fra 30 secondi. Uh, hanno preso la Tomycan divida. Siamo la Tomycan divida. Sì, tu. Da dove è? Al vapore. È uscito ieri. Per non ballare. Dai, abbassati. Abbassati, Diego. Diego, dai. Siamo tre timi. Siamo tre timi da due. Può pure essere quattro con tre. Ma non usciamo? Lo sai che ho fatto duo versus squad? No, l'ho messa io coppie. Però io l'hai detto anche che ti ho invitato. È vero. Usciamo, ce la... Ce la sei visto. No, la fai con lenta, guarda. Vai davanti a lenta. Puoi andare? E andiamo. Oh, due contro due. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. È la Tomycan divida. C'è un'altra con la tua Tomycan. No, andiamo. Sì, però se tu non mui andai in safe, io vado. Proprio io. E andiamoci. Tanto se perdiamo è colpa tua, ok? No, se non morivamo da safe. Camperai nella casa. Camperai in questa torre. Sì, però aspetta. Bravo. Sì, ma gliel'ho dato io. Ti è. Non inserisci. Vieni. E... E... Dove sono? Vediamo le tue. No. Oh, eccoli. Eh? No! Cosa? Ma cosa? Sì. Sì. Dobbiamo... Dovevamo fare creativa? Ah, sì, creativa, creativa. Ma... Stai ancora registrando? Eh, adesso finisco. Cioè, sono hackeruni. Sì, io avevo cento video e cento scudo. Ci siamo fatti il box come ha fatto a barrettarmi. La seconda volta che l'hai detto, che hai letto bene, bambino. Poi quando c'era bambino. Sì. Sì. Già, lo so variate. Sì. Hai visto? Come mi ha barrettato. Mi ha fatto centocinquanta. Poi hai visto che eravate qui, quindi bambini. Titto. Sì. Dinamite. Titto. Eh, ok. Alza un pochino l'audio. Mi pianto malissimo. Ok. E si può andar bene. Quindi da 15? Sì. Ammetto. Creativa. Di Rambetti creativa. Ah, è vero. Ciao ragazzi. Ciao.